Salve a tutti, sono Cristiano Ardini di Alfa Terra e per Radio Alfa eseguiremo un'ora circa di performance senza interruzione. Il repertorio che proporremo in radio è di pressoché totale improvvisazione, si tratta di brani elettroproga, se vogliamo, con ottime sfumature di nobis contemporanei, dove la tonalità, la tonalità, a privativo, caratterizza l'intera produzione musicale di Alfa Terra. Dunque, Cristiano Arduini, organo Enmond, zinta piano, e Pasquale Vembrocco, chitarra. Buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.